Dottoressa Alvia, stamattina una serie di consigli provinciali perché si vuole arrivare entro la prossima settimana all'approvazione del bilancio di previsione 2012, un documento importante per evitare che si possa dichiarare il dissesto comunque alla crisi finanziaria per quanto riguarda la provincia. Tante le critiche che sono arrivate proprio questa mattina nei confronti alla passata amministrazione che, dicono i consiglieri di opposizione soprattutto, ha lasciato più debiti che altro. Io mi sono insediata il 12 novembre, la mia prima preoccupazione è stata quella di portare in consiglio provinciale un bilancio idoneo ad essere approvato in maniera tale intanto da mettere il consiglio al riparo di eventuali interventi sostitutivi commissariali e da ipotetici e non tanti ipotetici considerato che siamo a novembre scioglimenti. Il mio primo obiettivo è quello di intervenire in collaborazione con il consiglio ovviamente per mettere l'amministrazione al riparo di interventi sostitutivi. Il tema del dissesto è connesso al bilancio, non c'è dubbio, ma è altro e non viene risolto con quest'atto, col bilancio, ma dovrà essere risolto nell'ambito del piano quinquennale del riequilibrio che è la facoltà nuova data dal decreto legge 174 all'amministrazione locale ed è un tema sul quale ancora la nostra attenzione è massima perché parecchie sono le criticità. Si tratta in pratica di un lavoro work progress che non ci consente di dire che col bilancio siamo fuori dal guado, siamo assolutamente dentro la corrente e stiamo remando per evitare di essere trascinati. Si può fare comunque una stima dei debiti che l'ente provinciale ha? Ufficialmente la stima che mi perviene dagli uffici è di 24 milioni scaturenti da questa sentenza, più piccole questioni che per una provincia della dimensione come quella di Catania, per lo meno per quello che gli uffici mi dichiarano ufficialmente, ammonterebbe a 4-5 milioni di euro. Se, questo lo voglio precisare per correttezza professionale, non per prendere posizioni, perché io non intendo prendere posizioni politiche nei confronti di nessuno, ma teniamo conto che l'Ende ha un avanzo di 100 milioni. Ove non ci fosse stata questa regola rigida sul rispetto di patto, l'Ende non aveva difficoltà a riconoscere questi debiti fuori bilancio e a pagarli. Non può farli perché ove li paga sfora il patto e quindi gli arriva addosso una stenzione che è pari allo sforamento in base all'attuale normativa che davvero lo metterebbe in ginocchio. La dottoressa Antonella Liotti è anche intervenuta sulla sentenza del TAR di Catania, che conferma la sua nomina a commissario straordinario indicato dal Presidente della Regione Crocetta. Infatti è arrivato il no del TAR alla sospensione dell'efficacia del decreto con cui il Presidente della Regione l'aveva nominata. Il TAR di Catania ha rinviato al prossimo 5 dicembre la Camera di Consiglio per la trattazione del ricorso proposto dal dottore Michelangelo Monaco, presentato all'avvocato Agatino Cariola, finalizzato ad ottenere la misura cautelare all'approvedimento di revoca. Per quanto la motivazione del decreto presidenziale non lascia adito a dubbi di sorta. La motivazione con la quale il Presidente del TAR motiva il primo rigetto a essenza dell'articolo 56 del CIPIA, credo che lì sia in buona parte risolta la questione a favore dell'assoluta competenza del Presidente Crocetta. Perché poi il problema non credo che riguardi noi funzionari, noi siamo servitori ed eseguiamo un ordine del Presidente.